Amici di Radio News 24, bentornati. Io sono Chiara Santoro per One Air Interviste e Storie. Oggi vi portiamo in Veneto e vi faremo conoscere tutti i segreti del visual merchandising. Lo faremo con il nostro ospite Mario Masiero, benvenuto. Buona serata a tutti. Allora Mario, tu sei un maestro vetrinista, vorrei che ci raccontassi intanto la tua formazione. Diciamo che faccio questa attività da abbastanza tempo, da un po' di decenni, lasciamo stare i particolari se no poi sembra che sia anziano. C'è un'evoluzione talmente vorticosa, veloce in tutti i settori e nel nostro ancora di più poi, che devi per forza essere, in mia opinione, aperto di mente e metterti in discussione ogni volta. La mia formazione è la scuola di vetrinistica, io nasco come vetrinista. Mi piace tuttora, quindi l'entusiasmo è rimasto. L'evoluzione per arrivare da vetrinista a visual merchandising o visual merchandiser, l'operatore si chiama così, è stata un po' lenta. In cosa consiste? Il vetrinista allestisce la vetrina e il suo lavoro finisce lì. Il visual può allestire la vetrina, ma continuare anche all'interno del negozio, con gli stessi criteri, quindi i colori, i punti focali, quello che è un lavoro di perfezionamento per rendere, se posso dire, gradevole, per rendere come fosse una vetrina anche l'interno del negozio, nel percorso del cliente, in modo che abbia dei punti di interesse che sia stimolata la sua curiosità. Ci sono proprio dei metodi per dare e destare anche l'attenzione di chi entra, perché deve essere catturato subito da quello che vede. Non si parte solo o sempre da un discorso estetico, che è importantissimo, quindi scelta dei colori, la scelta dei completi, gli accostamenti, le luci, ma anche da un discorso commerciale, puramente commerciale. Si passa da un allestimento non solo fisico, quindi in negozio, ma anche a un allestimento con una vetrina digitale. Deve essere fatta sia l'una che l'altra, perché hanno pari nobiltà, pari dignità, forse non pari utilità o risultato, perché addirittura, secondo me, la vetrina digitale, quindi i social, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e anche il nostro sito, perché anche quello sarebbe importante che noi lo avessimo, nel senso del commerciante, ogni negozio dovrebbe averne uno, perché può spiegare molto più approfonditamente la collezione che ha, le caratteristiche tecniche che ha, i servizi che vengono forniti, offerti ai clienti, cosa che nei social, non sempre, vista la velocità e la brevità anche della comunicazione, non posso fare un poema su Instagram. Mario Masiero, e vorrei ringraziarlo per essere stato ai nostri microfoni. Grazie a te e dell'occasione di essere presente.